Paura martedì mattina a Villanova di Campo San Piero in provincia di Padova. Il doppio garage di un'abitazione si è incendiato e una persona è rimasta ferita. Il garage dove è scoppiato il rogo si trova al piano interrato di un condominio. Le fiamme hanno creato molteplici danni ed è rimasto coinvolto anche l'appartamento al piano superiore. Sul posto sono arrivati dieci uomini dei Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e che ora dovranno appurare le cause del rogo. All'arrivo delle squadre di soccorso il ferito era già stato portato all'ospedale.